Sì, spero di dare il più contributo possibile al centrocampo azzurro e di dare sempre il mio meglio per questa squadra. Torni da un periodo un po' particolare. Lo scorso anno di questi tempi festeggiavamo un tuo gol a Perugia, mi ricordo. Speriamo di rivedere le stesse prodezze. Sì, precisamente contro il Perugia un anno fa, diciamo bellissima emozione, il primo gol tra i professionisti e appunto perché siamo in questo periodo spero di farlo al più presto. Ecco ti chiedo, avrete tantissimi impegni in queste settimane, che regalo di Natale vorresti fare ai tifosi del Pescara? Assolutamente, abbiamo tre partite nel giro di sette giorni, il regalo che ci auguriamo è di fare più punti possibile. E ora di mettere una marcia in più allora. Vero, sì. Grazie a tutti.